Questa è una puntata un po' particolare di Total Rugby, a noi piace il rugby giocato, ci piace vedere giocare gli All Blacks, ci piace vedere giocare i bambini, ci piace vedere giocare le ragazze, insomma ci piace tutto quello che gira intorno alla palla ovale e anche quello che forse è più comprensibile per tutti, vale a dire proprio il mondo umano che sta intorno al rugby. E allora questa puntata la dedichiamo proprio a questo aspetto, vale a dire a dove nasce il rugby, a come viene vissuto nei college, nelle università e a quelle che sono un po' le curiosità intorno ai grandi campioni. Naturalmente lo facciamo sempre in compagnia di Luca Tramontina. Ciao Daniele, un saluto cortese questa volta al pubblico perché dobbiamo anche salutare un supplente che circa 26 anni fa aveva detto non credo che il rugby va bene per uno che deve studiare. Intanto aveva sbagliato il congiuntivo e poi come vedremo nel corso dei servizi aveva sbagliato profondamente anche il concetto. Cesare si chiamava, il cognome mi verrà. Insomma, sempre il supplente amico di Luca che ogni tanto torna in ballo e che probabilmente forse con il senno di poi apprezzerà il viaggio che stiamo per fare e che inizia naturalmente, non poteva essere altrimenti, dall'Inghilterra e dal 150esimo anniversario di Blackheat. Grazie a tutti.